Riassunto trama terza puntata della fiction Braccialetti Rossi 3, andata in onda su Rai 1 domenica 30 ottobre 2016 in prima serata. Leo decide di fondare con gli amici una radio, in modo da raccontare a chi sta male quanto può essere importante un'esperienza come quella dei Braccialetti Rossi. Chris scopre di essere incinta ed è felicissima all'idea di avere un bambino e di creare una famiglia con Leo. Dopo l'iniziale contentezza, però, sulla ragazza cala un'ombra di paura e di angoscia. Leo infatti è un malato terminale e potrebbe anche non riuscire a vedere nascere il bambino. Chris è combattuta e tormentata e non sa neanche come dare questa notizia al ragazzo. Proprio a Leo, intanto, Davide sembra aver dato una miracolosa seconda possibilità.